ciao bentornati nel mio canale oggi vi parlerò della lavagna magnetica quella che ho utilizzato in alcuni dei miei video allora questa è la palma è da Lea Luca e si usa da 3 anni in su però vi assicuro che questa età è molto orientativa ad esempio il mio figlio la sta iniziando ad usare a 14 mesi magari facendo un segno con il gestetto o appiccicando le elettrine magnetiche così a casaccio o distruggendole e buttandole tutte a terra però già sta iniziando a interagire con essa ma vediamo il contenuto della scatola questa lavagnetta è facile da montare in quanto arriva già montata e ci sono solo questi fiolini da montare che fanno messi qui per agganciare questo piano dove si può posare qualcosa quindi chiunque può montare le altezze di 84 cm qua nella parte più alta per 44 cm nella parte per l'alga posso assicurare che comunque si può ordinare in media sui 76 cm già va benissimo la lavagna ha due facciate una facciata che è quella magnetica dove si possono appiccicare le lettere già contenute nel pacchetto le lettere ce n'è una lettera grande e due lettere piccole per ogni lettera dell'alfabeto con l'esempio di L ce n'è 3 di A ce n'è 3 una grande e due piccole poi abbiamo il pennarello per scrivere sulla lavagnetta con il tappo che permette la sua cancellazione e una cramita nel tappo stesso che permette di appiccicarla alla lavagnetta stessa mentre dall'altro lato i gessetti c'è l'orologio quindi i bambini possono imparare anche l'orologio abbiamo i numeri e le lettere della falpello in mosso sui fattorati il pacchetto comprende questo scatolino con questi gessetti ce n'è uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette bianchi e alcuni colorati abbiamo il verde l'arancio l'arancio il fucsia il blu il rosa e il giallo la natura e magari abbiamo il bianco se si mette bene che devo dire che alcune volte ci faccio dei disegnini degli animali delle cose magari lui di qualcuno sa il verso e mi inizia a dire il verso dell'animale e poi abbiamo la foglietta per cancellarlo l'ho acquistata su Amazon sotto nelle descrizioni vi lascerò il link se vi è piaciuto questo video al solito iscrivetevi al mio canale e mettete un like arrivederci al prossimo video ciao 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 uição